Il cambiamento climatico in atto impone l'urgenza di un impegno concreto da parte dei governi per invertire la rotta. Ma nonostante i segnali di un allarme ambientale sempre più preoccupante, nulla di fatto viene concretamente portato a termine dalla politica, se non chiacchiere e sperperi. A denunciarlo è il forum H2O che ha manifestato in piazza Unione a Pescara davanti alla sede del Consiglio regionale per chiedere l'attuazione del piano per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, fermo ormai dal lontano 2006, tra varie vicissitudini che Giuseppe Raccaniello ricostruisce al Tg8. Noi siamo qui per ribadire la necessità di concludere un iter approvativo di uno strumento importantissimo che è già praticamente pronto, risale al 2006, quindi dopo 17 anni questo iter approvativo non è stato concluso. Noi abbiamo rintracciato un po' tutti i passaggi fino ad arrivare all'ultimo elemento che è la presa d'atto di un lavoro da parte di una commissione dell'amministrazione regionale. Il passo successivo non è stato fatto, questa delibera è del 2019, proprio a febbraio 2019 ci sono state le nuove elezioni regionali. Quindi con cambio dell'amministrazione regionale questo faticoso iter durato anni poi alla fine non è stato concluso. Sono stati persi anni, abbiamo un piano già pronto che doveva essere solo integrato su alcuni aspetti che è costato alla collettività quasi mezzo milione di euro. Agosto De Sanctis, ma concretamente cosa cambierebbe per la regione con la concretizzazione di questo piano di salvaguardia dell'acqua? Di imparare dagli errori del passato. Il caso di Bussi è semplificativo, se uno piazza una industria chimica a monte delle sorgenti che danno l'acqua potabile poi non si può lamentare se quelle sorgenti vengono inquinate. Però appunto non si impara dagli errori del passato perché non approvando questo piano di salvaguardia si fa sì che a monte delle sorgenti che danno l'acqua a un milione di persone in Abruzzo si possono ancora installare impianti inquinanti o impianti come cave che mettono a rischio la risorsa idrica. La regione Abruzzo in questi ultimi anni, in ultimo un mese fa, sta approvando enormi cave a monte delle sorgenti più importanti d'Abruzzo come quelle del Pescara e anche quelle del Tirino. Renato Di Nicola, cosa chiedete in sostanza a chi il 10 marzo vincerà le elezioni in Abruzzo? Di approvare il piano di salvaguardia delle acque, cosa che non è stata fatta da nessuna amministrazione, di entrambi i colori e noi chiediamo a tutti i consiglieri anche come persone, cioè non soltanto come appartenenti a qualche partito, cosa hanno intenzione di fare perché finora nessun consigliere regionale si è alzato a dire che non è possibile aver speso mezzo milione di euro per fare un piano che poi non viene assolutamente approvato, è una follia perché senza acqua non c'è vita.